Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Insomma, quando mangio la pasta, che contiene molto glutine, mi sento tutto gonfio, soprattutto nell'addome. E allora immediatamente mi è arrivata una domanda molto interessante. In realtà mi gonfio proprio dappertutto. Per farle un esempio, per spiegarle, i bracciali che mi andavano larghi, il giorno dopo mi vanno stretti. Quindi si verifica un vero e proprio linfedema. Ora cosa succede? Questa enorme quantità di glutine è necessaria... Avete mai fatto un impasto per la pizza? Cioè se io prendo la farina e ci aggiungo l'acqua, la farina riesce a intrappolare l'acqua non per qualche misteriosa magia, ma perché contiene glutine. Quindi più glutine conterrà quella farina, più semplice sarà maneggiarla. Più glutine contiene quella farina, maggiori potranno essere le ore di lievitazione dell'impasto, perché diventa più elastico. Insomma il glutine è veramente importante. Il glutine cosa fa? Riesce a richiamare a sé enormi quantitativi di acqua. Ora, dato che il glutine è una proteina e il nostro intestino non riesce a digerirla, abbiamo detto che questa si deposita nella mucosa intestinale, crea infiammazione, irritazione e potrebbe sfondare le nostre barriere, quindi creare una permeabilità intestinale. A questo punto la nostra famosa gliadina, il nostro peptide oppioide che deriva da questo glutine, oltrepassa la membrana intestinale e va direttamente in circolo. Si va a depositare direttamente in vari tessuti e organi del nostro organismo. E cosa farà? Beh, da una parte il sistema immunitario si allerta e quindi non lo riconosce più come qualcosa di self, ma lo riconosce come qualcosa di non self, lo vuole attaccare. Ma dall'altra parte il glutine è intelligente. Cosa fa? Richiama a sé acqua. E quindi immaginate questo peptide che viene circondato da una super bolla di acqua. Io direi che questo meccanismo ci salva un pochino dal nostro sistema immunitario che poi tenderebbe ad impazzire per queste enormi quantità di glutine che entrano all'interno del nostro organismo e tenderebbe ad attaccare probabilmente tutti i tessuti. E allora però questa navicella, diciamo spaziale, cioè l'ho sempre immaginata, immagina una cladina come una noce, questa noce che entra ed sarà tutta inglobata di acqua in maniera tale che non verrà più riconosciuta come il glutine o come la noce, questo è l'esempio. E quindi cosa stiamo facendo? Ci stiamo gonfiando. Ci gonfiamo ovunque. Il classico linfedema sostanzialmente. Poi vengono definiti peptidi oppioidi perché oltrepassano la barriera amatoencefalica, vanno a interagire direttamente con i recettori per l'oppioidi e mi creano una certa dipendenza da alimenti contenenti zucchero. Motivo per il quale, se io sono abituato a mangiarmi il piatto di pasta tutti i giorni, non vorrò sentire ragioni. Continuerò a mangiare il piatto di pasta, anche se hai ascoltato questo video, immagina, dirai non è vero perché io, a me la pasta mi serve, è il mio unico alimento. Prova realmente a modificare la tua alimentazione, ne va veramente della tua salute. E detto questo, se il video ti è piaciuto mi raccomando metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e soprattutto iscriviti al canale YouTube. Ciao!